Musica Parte sabato con Fiorentina Torino, un campionato che si presenta a Zoppo e col calciomercato da completare. Non si giocheranno infatti la partitissima tra la Lazio del capocannoniere immobile e il suo antagonista Zapata dell'Atalanta. Niente da fare pure per il Benevento e l'Inter di Conte che non nasconda quest'anno le proprie ambizioni. Infine è rinviata pure la sfida fra l'Udinese di Lasagna e il neopromosso Spezia. Quest'anno la Juventus dell'aspirante Mago Pirlo è un po' meno favorita. I bianconeri esordinano contro la Samp di Quagliarella. C'è curiosità di vedere che ruolo reciteranno il Napoli di Gattuso, la Roma Americana di Fonseca, il Milan di Pioli con tonali alla regia e il Sassuolo rivelazione di De Zerbi. Ma la domanda più interessante è quella che riguarda il Covid. Che ruolo reciterà? Che ruolo reciterà? Che ruolo reciterà? Grazie a tutti.